Siamo nel post partita di Barretta Brindisi, unita per 1-0 con Orazio Forgione. Ti chiedo prima di tutto, vi aspettavate di vincere questa partita? Soprattutto come siete arrivati a questa partita dopo la sconfitta contro il Bitonto? Siamo venuti da un passato difficile, molto difficile, molti ammuniti, squalificati. Quindi oggi c'è stata abbastanza guerra in campo, però ce l'abbiamo messa tutta e ce l'abbiamo fatta. Ecco, siete soddisfatti soprattutto di quello che avete fatto in tutto il girone d'andata? Visto comunque la posizione di classifica e adesso vi ritrovate. Sì, siamo molto soddisfatti, ci sono un po' di rimpianti per Bitonto, però oggi ci siamo riscattati. Abbiamo visto anche che ti sei fatto male questo oggi, speriamo ovviamente che non sia nulla di grave. Come pensi di aver dato aiuto ai tuoi compagni in questa stagione, in questo inizio di stagione? Ho giocato il primo tempo e penso di aver contributo molto, ho dato molto contributo alla squadra. Especialmente nella fase difensiva, poi abbiamo attaccato parecchio, anche se abbiamo finalizzato pure. Bene, ringraziamo Orazio Forgine per questa intervista, ovviamente ti facciamo un grande bocca al lupo per il proseguo di questa stagione. Grazie a voi.